Il principe Harry è stato interrogato sulla sua scelta della lingua dopo aver affermato che la famiglia reale mi ha letteralmente tagliato fuori finanziariamente poiché è emerso che ha ricevuto una somma sostanziale dal principe Carlo dopo essersi dimesso da senior royal. Il duca del Sussex ha dichiarato a Oprah Winfrey a marzo. L'accordo con Netflix è stato suggerito da qualcun altro dal punto in cui la mia famiglia mi ha letteralmente tagliato fuori finanziariamente e ho dovuto permettermi la sicurezza per noi. Mi hanno tagliato fuori, nel primo trimestre del 2020. Punto. Ma ho quello che mi ha lasciato mia madre e, senza quello, non saremmo in grado di farlo. Tuttavia, un portavoce di Clarence House ha detto alla BBC che Harry ha ricevuto una somma sostanziale dal principe Carlo dopo la sua decisione di lasciare la famiglia reale. La revisione annuale del principe di Galles ha mostrato finanziamenti per le attività per il duca e la duchessa di Cambridge e il duca e la duchessa del Sussex con 4,4 milioni di sterline assegnati alla rubrica. Non è chiaro quanto di questo sia andato ai Sussex, ma il portavoce ha insistito sul fatto che sono stati finanziati fino all'estate del 2020. Hanno detto, come ricorderemo tutti nel gennaio 2020, quando il duca e la duchessa hanno annunciato che si sarebbero allontanati dalla famiglia lavoratrice, il duca ha detto che si sarebbero adoperati per essere finanziariamente indipendenti. Il principe di Galles ha stanziato una somma consistente per sostenerli in questa transizione. Quel finanziamento è cessato nell'estate dello scorso anno. La coppia ora è finanziariamente indipendente. Punto. Pod Savet & Queen è ospitato da Angry Per e presenta l'editore reale del Daily Mirror Russell Myers. Il signor Myers ha affermato che questi ultimi commenti sono potenzialmente in contrasto con ciò che Harry ha detto a Oprah Winfrey che la sua famiglia lo ha tagliato finanziariamente nel primo trimestre del 2020. Tuttavia, un portavoce dei Sussex ha affermato che non c'era contraddizione, perché le tempistiche erano diverse. Hanno detto, stai fondendo due diverse linee temporali ed è impreciso suggerire che ci sia una contraddizione.